Come ho detto in altre occasioni, l'impressione iniziale è che sia un gruppo di livello medio molto alto. Non sappiamo se a livello individuale ci sono dei ragazzi molto promettenti, ma sicuramente alcuni di essi si stanno già distinguendo, però diciamo che come livello medio è abbastanza alto. Dopo il biennio che si è appena archiviato e quindi dopo aver visto già un tipo di progressione di un gruppo non simile magari per caratteristiche, ma comunque come età, certamente dove andrai a lavorare, dove andrete a lavorare insieme a Danilo e allo staff? Su che tipo di impostazione, che cosa cambia magari anche se cambia qualcosa rispetto al biennio precedente? La base di partenza non cambia niente perché abbiamo radunato 20 ragazzi che vengono da campionati prettamente giovanili e da diverse situazioni. Quindi la prima fase sarà molto dura come lo è stato il biennio precedente. Dobbiamo creare un sistema di gioco ben comprensibile, una mentalità, un approccio al campionato di un certo tipo, ma non dobbiamo dimenticarci, l'abbiamo detto anche oggi con Gagliardi, che questi primi quattro mesi non sono tanto campus, non è tanto il campionato di A1 Silver, ma è una nazionale che si allena tutti i giorni per poter arrivare a gennaio meglio preparati possibile perché questa è l'unica arma che abbiamo in più rispetto alle altre squadre. Grande omogeneità però rispetto alle prime uscite, che sono anche poi le ultime in ordine temporale, di questo gruppo in campo internazionale, sono state poche per la verità centellinate. Questi quattro mesi a che cosa serviranno in ottica qualificazioni? Quale sarà il lavoro specifico? In queste due uscite in Francia, in un torneo delle zone francesi e nell'MHC, abbiamo visto che abbiamo tanto da lavorare per essere a livello di altre squadre, e altre nazionali, però noi abbiamo questa fortuna, come dicevo, e quindi sicuramente la struttura di gioco, il modello di gioco deve essere un vantaggio rispetto agli altri. Poi devo dire anche che un elemento sarà determinante, che è Yatava Rage, perché lui è veramente un ragazzo troppo interessante, è troppo poco, ha grandi possibilità, sia fisiche, tecniche, ma soprattutto caratteriali, e questo sarà, se riusciremo a renderlo italiano, perché ha iniziato già il processo per poter prendere la cittadinanza, sarà un regalo e sarà molto importante per il nostro risultato. Detto questo, credo che il campus sia la migliore situazione per poter crescere di squadra. Le avete selezionati, visionandoli, le avete pian piano conosciuti, adesso li conoscerete ancora meglio, dopo i due anni precedenti, che tipo di predisposizione hai visto ad un lavoro e ad un salto di vita, come quello del campus, che tu hai conosciuto con i ragazzi scorsi, loro approcciano adesso, che tipo di predisposizione anche mentale hai visto da parte di questi ragazzi? Ma sicuramente loro sono avvantaggiati, questi qui sono avvantaggiati perché hanno l'esperienza degli altri, gli altri con i fatti hanno fatto vedere quanto sia stato produttivo vivere il campus, vivere questa esperienza sportiva, per cui partono avvantaggiati. Quindi sono mentalmente ancora più convinti. Il gruppo precedente ha dato una grande impressione dal punto di vista della disciplina, della disponibilità ad apprendere, è stato un gruppo perfetto, non ho niente da dire su questo che sia in qualche maniera diverso. Anche per noi staff sarà sicuramente un miglior lavoro, perché abbiamo sperimentato cosa significa lavorare in cinque, non sempre era comune per noi lavorare con uno staff così numeroso, che a volte viene anche da esperienze diverse, per cui bisogna anche tra di noi conoscerci meglio per poter poi trasmettere uno stesso linguaggio. Quindi se il gruppo precedente ha dato dei grandi risultati finali, l'abbiamo visto anche dei risultati con la Serie A, sono molto difficiliosi che faremo anche meglio. Danilo Gagliardi, non è il tuo primo anno al Campus Italia, perché hai già lavorato con questa squadra lo scorso anno, però quest'anno lavorerai da allenatore fianco a fianco con il direttore tecnico Riccardo Trillini. E allora innanzitutto, con che sensazioni personalmente inizi questa stagione qui al Campus? Sì, grazie Matteo. La sensazione è ottima. E la verità, come hai detto tu bene, è la mia seconda stagione qui al Campus Italia. Adesso come allenatore, questo è fatto tutta la mia vita, quindi è una cosa che mi piace tantissimo. E sono molto soddisfatto con questa opportunità per fare una grande pallamonell'Italia, adesso come allenatore. Inizia un nuovo biegno di Campus Italia, arrivano 20 ragazzi completamente nuovi, a parte Didone e Gian Bartolomei, che c'erano in precedenza. Hai partecipato insieme a Riccardo, avete portato avanti il processo di selezione, di visionatura di questi ragazzi. Che gruppo avremo in questi due anni qui a Chieti? Sì, abbiamo un gruppo, secondo me, molto buono, un gruppo molto omogeneo, con tantissime possibilità di crescita. E questa è l'idea, sviluppare dal punto di vista tattico, tecnico, tutti i giocatori, perché alla fine della stagione possiamo arrivare all'obiettivo centrale. Per queste stagioni abbiamo tre obiettivi molto chiari. Per forse è certo che l'obiettivo di questo progetto, l'idea generale è fare la crescita del giocatore, sviluppare il giocatore, mettere più giocatori nella nazionale il segno nel futuro, però abbiamo anche in gennaio una competizione molto importante, che è la qualificazione dell'europeo. Quindi queste due cose dobbiamo fare il meglio lavoro possibile per arrivare in questo obiettivo. Tutto passa, tra l'altro, tramite la partecipazione al campionato di Serie A Silver. Tu non c'eri due anni fa quando il progetto è iniziato, però il biegno precedente ebbe qualche difficoltà all'inizio anche in un campionato di Serie A 2, che magari si pensava potesse essere forse un pochino più semplice per il livello tecnico. Questa Silver è un campionato sicuramente di un alto livello per questi ragazzi così giovani. Sì, sicuramente. Questo è molto importante, la sfida del campionato a due silver, perché quando pensiamo al due obiettivi centrale, come aveva detto prima, la partecipazione a questo campionato è fondamentale per l'opportunità di crescita tanto individuale quanto collettiva delle squadre. Quindi noi sappiamo la difficoltà, perché sono squadra fortissima, però dobbiamo utilizzare questo campionato per la crescita, per il miglioramento, tutta la partita, per arrivare al massimo del punto possibile alla fine delle stagioni. Tu hai viaggiato e allenato in tantissimi luoghi in Europa e non, che idee hai su un progetto come quello del campus? Sì, per me è un progetto bellissimo. Io ho stato con un progetto simile in Angola, per tre anni e mezzo, quindi questa possibilità di fare come un'accademia di palamano, di vivere la possibilità di essere professionista con questa età, è una cosa molto difficile di fare, è un progetto bellissimo che sicuramente può in futuro arrivare tantissimo al logro di questo.